Salve a tutti ragazzi, buon'olto e bentornati sul canale di DionTrip e bentornati in un nuovo episodio di Raft! Siamo ancora qui ragazzi per cominciare, anzi per cominciare, cazzo sicco, per continuare la nostra avventura su Raft con il nostro Remo! Dai che andiamo! Sono fermato là con l'isoletta, mi sono preso un po' di ferro perché veramente ragazzi ne stavo scarseggiando di ferro e quindi mi sono messo un po' qui a raccoglierlo, molto bene, molto bene, perfetto! Allora, abbiamo un po' di risorse, allora ragazzi in questo episodio intanto mi vado a rifare il gancio e vediamo se abbiamo un bolt, un bolt ce l'abbiamo, l'accetta, la pala, no praticamente solo il gancio mi vorrei rifare, solo il gancio, sì 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 l'amo qui vabbè Qua servono i Rottami, vabbè per forza, e vabbè, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 E vabbè ragazzi, ci tocca che Diva! E niente, qua invece mettiamo giù sta cosa, poi il ferro ragazzi proveremo a andarlo a fare pian piano, andate tranquilli Ma, in questo episodio io direi che mi posso spostare benissimo nella mia, anzi prima mi vado a recuperare un po' di acquetta qua che stiamo un po' scarsi e vedrete che sicuramente, ok, in questo episodio la useremo perché prima di tutto ragazzi devo andare a mettere l'acquetta qui perché sennò sta roba qua non cresce, a parte che qua l'erba è già cresciuta Ah ma è piovuto mi sa Maledetta E Scusa eh, chi c'ha? Dai che con la lanona qua So che cacchio me ne farò adesso della lana ma vabbè Allora Il gancio si sta quasi scassando Ma ragazzi, guardate qua Io mi sono fatto un po' di vernice, quindi Tac, tac, che ce ne farei? Magari qualcun altro in più Quasi quasi Allora Mh, blu cosa che stiamo scarsi qua? Stiamo scarsi a La, 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 forse è proprio il bianco Il bianco forse ce ne, no ce ne è un po' di più E quindi Giallo Ah no è sempre Vabbè, vabbè, vabbè Due E una Due Vabbè dai Mettiamoci due Due rossi e due gialli Dentro Tanto ragazzi Non vengono mescolati i colori Cioè in pratica Fate così Tac, li mettete dentro E E Anche l'altro va bene E E Ok Tanto qua lui ve li separa da solo Vedete due gialli e due rossi Ok Massimo cinque ne potete mettere dentro Quindi va bene Perfetto Andiamo a raccogliere un po' di sta roba qua Intanto che stiamo Navigando Mamma mia Quando raccogliamo ste robe Che cazzo è Allora A quanto cacchio ce n'era dentro Mamma mia Allora Benissimo Abbiamo fatto Ragazzi Abbiamo risolto Quindi Ah qua la nostra sera sta Scusami Le api Non appeggiano Però Ma come funziona sta cosa Perché le api Non appeggiano Raga Sapete qualcosa Sapete qualcosa voi Non dovrebbe essere Ma ci devo mettere dentro le api Aspetta un attimo Forse ci devo mettere dentro le api Io ho un vasetto d'api Mi ricordo dov'è Questi qua Tipo vasetti d'api Ma non sono sicuro che funzioni esattamente così Ma comunque Andiamo a vedere Cioè Se io Ci metto dentro le api No La rimuovi Io non Capisco Non so cosa ci voglio Io qua i fiori ce li ho piantati In realtà Dovrebbe andare bene No O vogliono Per forza l'aperto Ma non penso Che vogliono l'aperto Ste cose No Va bene ragazzi Qua abbiamo andato un po' di pini Un po' di roba Un po' di tutto Ci stiamo andando a sbattere contro questa cosa No Va bene Quella la lasciamo lì ragazzi Tranquilli E direi che Va bene Tanto che siamo qui Allora In questo episodio Attiva E andiamo a Journal Com'è che si attivava il journal Eccolo qua Andiamo a Caravan Town 22 E 67 Però A 22 Vai Vai 60 Vai 7 Deve sta a stoccare a Caravan Town Ma ci siamo dritti per dritti Pazzo Ci siamo veramente dritti per dritti ragazzi Ma stiamo scherzando Molto bene Allora Tra due chilometri Arriveremo Ma Ragazzi In questo episodio Come detto prima Intanto che facciamo il nostro viaggetto Per Caravan Town Direi che È arrivato il momento A parte il fatto di mettere giù sta plastica qua È arrivato il momento Ma qua sotto come stiamo messi bene Molto bene Qua la plastica non l'ho messa giù completamente Anche queste api che abbiamo visto che Non servono attualmente Non ho capito Come funziona la storia delle arnie Vabbè Non me le fa mettere Qua è un po' di patata cruda Il legno un po' ce lo teniamo Poi qua io vado a mettere giù ragazzi La lana La pietra Vabbè questi rottami qua Meno male che un po' ne abbiamo trovati E quasi quasi il ferro Che dite ma Sì dai mettiamo giù anche il ferro Poi magari quando Sarà il momento Ce lo rifaremo Questi qua li buttiamo Vabbè Fatti una corda Via Ok perfetto No ragazzi quelle robe lì le butto Perché ne ho veramente tre chest piene E non so praticamente che cacchio farmene Allora Ah porca c'è la miseria Qua sarebbe quasi ora di andare a dormire Allora Intanto facciamo così Ricopriamo un po' di acqua La ricopriamo qua Tac Ci può? Ci può E Volevo andarmi a fare Ragazzi Ma penso che E' fatti Me la son già fatta I pennello Perché praticamente Oggi andremo A verniciare Ma scusami Puoi però Metterne giù Tipo una qua? No Vorrei mettere giù Una Una E così magari Quando le rimetto giù Mi rivanno Nella stessa posizione Di prima Che capite bene Che è cosa buona e giusta Bene E con il nostro pennello Guardate un po' Tieni premuto RMV per altri colori Cazzo altri colori Minchia Troppi colori Possiamo pitturare Vedete tutta La nostra Zatteronza Allora da dove cominciamo Raga A parte Il fatto che Abbiamo una fame Che Dio la manda Mi metto qua in chest Qua guarda Mi prendo sta roba Così mi rinfocilla tutto E andiamo a mangiare Già della roba cotta O ce la cuciniamo Ma io direi Ragazzi Che ce la possiamo Anche cucinare Tipo questa tilapia Qua cruda Ma si Ma cucinatene un po' Però non aspettiamo Che si cucini E andiamo a prendere questa Che abbiamo già cotto Sgombro cotto Perfetto Tac E tac E magna di tutto Perfetto Allora Uno ce lo teniamo Magari perché Se ci viene qualche Languorino più tardi Quasi quasi Tac Perfetto Allora Ragazzi Direi di cominciare A pitturare Allora Cominciamo Con 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 La nostra Questa Quella che abbiamo appena fatto Ma non è giusto però Che pitturiamo prima questa Io direi Di pitturare prima La Il ristorante Se lo merita Ragazzi No Che dite voi Ragazzi qua E lo facciamo di un colore solo Ok come lo facciamo Ma io direi che Un bel Giallo Così E se vuole il bianco qua Agua nero Ah ok Giallo acceso Fammi vedere Che roba Beh non sembra proprio giallo acceso No A voi questo sembra giallo A me sembra un verde Verde Scusa se io lo metto verde Cioè per curiosità Fatemi vedere se io la metto verde Sta cosa E' uguale Assolutamente un cazzo Perché no No possiamo anche pitturare queste Così Sì vabbè ma Cioè Fa schifo così Cioè non è che fa schifo Però Capite bene che così È troppo Fosforescente Magari Che ne so Un verdino più scuro Eh dai Possiamo un fontino di colori Per fare sta roba Ma vabbè Verdino più scuro Che dite Ah si dai Diciamo che Per il momento Dai qua ce lo facciamo verdino Perché Non vorrei Non vorrei che cozzi Con il resto della roba Praticamente no Quindi Tac Facciamo pitturare anche questo no Peccato Cosa qua si poteva Ma se qua la pitturavi E di che l'hai pitturata qua No Che cazzo era Questo vero Esatto Ah no Si può Che cazzo fai Ok dai Pitturiamo tutto Ma viene pitturato anche dall'altro lato Spero di sì 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 Ok è perfetto raga Eh vabbè Che vi devo dire Questo è Anche la porta Tante belle cose Beh dai no Così facciamo tipo il verde qua E Va bene Dai Sì sì Secondo me ci sta Poi pitturiamo anche questo di verde Ragazzi Perché qua sarà il green Restaurant Tank Tac 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 Ah pure le scale si possono No anche il tetto grande Vabbè il tetto no Ok credo che abbiamo finito Vabbè allora Il soffitto Però penso che il soffitto Non c'è un bianco Scusa come faccio a farlo bianco Qui Ah bianco Ok Tipo Però presumo che anche sopra Mamma mia fa schifo però sta roba Allora E anche sopra viene bianco Quindi qua che sarà il coso del bianco Ma sì dai facciamolo bianco Perché Non si può fare le due facciate vero Eh no Mamma mia un pugno in un occhio però dentro così Vabbè E qua lo facciamo blu Giusto Spero che il blu almeno esista Ma se è lilla Non è blu È questo Ma perché è tutto molto più Fosforesciente Perché è fosforesciente Sta cacchia di Dai va schifo così Ehm Lo facciamo Ecco di questo colore qua Ecco di questo colore qua Dai raga Perché se no Cioè veramente Vabbè fa veramente schifo Allora qua sono blu e va bene Questi che blu ci stanno Anche le torcine qua Grandissime E posso Cazzo ho sbagliato Scusatemi Non so se potesse colorare anche questa Ma evidentemente no Ehm Ups Però qua adesso Noi dobbiamo rifarlo Verde giusto Yes Ehm Però questo non mi piace Verde così Quindi qua ce le facciamo Di questo colore No Fa schifo Ehm Vabbè Che dite Lilla No Arancione Ecco arancione Arancione già mi piace di più Mi dà un po' più di un tocco di Ma che tocco Che cazzo dici Vabbè sembra rosso Sembra Non è arancione È rosso E scusami un attimo Ma se io lo faccio rosso Che cazzo cambia Ah no il rosso Non è rosso Ma è tipo rosino Vabbè Allora facciamo così dai Ehm Questo mi sembra rosso In realtà Più che Un rosso più scuro Vabbè Vabbè le scale ragazzi Le facciamo così E chi si è visto Si è visto Che vedo di Eh no la ringhiera no però Eh porca C'ho due La ringhiera Io la volevo fare E magari di Ecco va Così Mamma mia Sta diventando uno schifo totale Perfetto Ma voi fate finta di niente Non è uno schifo È una cosa È una zatta L'arcobaleno Questa guarda qua Perfetto Guarda le scale sono rosse Io direi che anche qua Ce la facciamo rossa no Eh sì però Non è lo stesso rosso Però Ma forse Sì Ok Va bene Qua sopra ovviamente Ragazzi ce lo facciamo bianco Perché di sì Che non è bianco Adesso è diventato Tipo un bel Un bel Azzurrino Vabbè Non so come cacchio Abbiamo pens Forse sono le luci Raga che Non sembrare Ste cose un po' Un po' così Ecco Allora Qua pitturiamo Tutto per carità No le fioriere Cazzo Le fioriere le volevo Di un altro colore Vabbè Poi ci penseremo Anche l'arnia Si può pitturare Secondo me sì Allora Tac 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 No i pali no Perché li voglio Di un altro No cazzo abbiamo finito il bianco Sul serio Aia Io pensavo di averne Un fottiglione E invece no Ma porca Che cazzo fa Spostati Non si sposterà mai È vero Ci siamo incagliati Ma porca Tanto questo è gratis Non lo useremo mai più Possiamo girarla Per favore Sta zatte Ragazzi Siamo disincagliati Finalmente Ma ci siamo girati Adesso Porto E la rotta Com'è E la rotta Fa schifo adesso Giusto Ma mi è Un occhio Sta cosa Va bene E vedi Non va bene Parca puttana Attiva sto coso E puoi mettere giù Sta roba Che non vedo Non si può andare A mani A mani nude Amico mio Vabbè Commettiti L'acqua Allora spostiamo Un attimo Di là Giriamo un attimo Che ci dobbiamo Per forza Insinuare Qua così Ok basta Mettilo dritto Perfetto Ok spegni tutto Eh il bianco Il bianco Eh Cazzo Sembra molto più bianco Allora Molto più bianco Cazzo devo andare a piantare i semi Mettine ancora un po' Grazie 5 possono essere il numero Perfetto Ok E mettiamo il bianco Qua dentro Vai Ok Ne dovrebbe fare il massimo 5 Quindi 5 sono Andiamo a vedere se becchiamo Sta roba Allora Vabbè Il bianco ragazzi Lo finiremo dopo Che tanto non è bianco Cioè sotto Quasi qua Lì anche si Vabbè Lasciamo perdere Va Sì va bene Raga I colori in questo gioco Sono un po' così Secondo me Adirittura potrei farlo nero Mi vedo una roba C'è soprallivo nero Credo che il nero Sia quello Più bello Da vedere No No Qua c'è sto marroncino Vediamo E anche il marroncino Cacca di bimbo Eh Vedi Il marroncino Cacca di bimbo Secondo me Ci sta No Zorino no Potremmo fare Questa Marroncino Cacca di bimbo Ok Che poi sarebbe tipo Color legno Tipo no Noce no E secondo me va bene Comunque Stiamo anche finendo il giallo Quindi No Maledetto Non puoi Non puoi piturare questo Guarda E questo si però Andiamo a vedere Come viene da fuori Esteticamente E secondo me qua Un po' da fuori Dovrebbe venire bene No vabbè Questa Viene bene Così C'è da fuori Guardate Sopra Sì Sopra E' anche venuta bene Questo marroncino Color cacca E' però sotto E' un po' E' un po' Così Ma vedi che il verde Dai ci sta Perché foglie verdi E fin qua va bene Però questo verde qua Assolutamente non si può vedere Questo verde qua Assolutamente non si può vedere Se lo faccio più chiaro Non si può vedere Perché sembra tipo Fosforescente Verde normale Non si può fa Fa schifo Questo E questo è il meglio Secondo me Vabbè Però stiamo finendo i colori A forza di fare sperimenti Allora Andiamo a prendere il bianco Ragazzi Così almeno finiamo Questo bianco Eeeh Non so se E poi cos'è che mancava Il giallo Non so se il giallo Ce l'ho però Sai che abbiamo finito il giallo A meno che non piantassi Sti semi Non serve per fare Delle coltivazioni Per piantare i semi Queste Per far crescere le piante Più grandi No mi servono queste Per i fiori Vero Piante più grandi Ma piante più grandi Cioè io posso Vabbè no ragazzi Mettiamo un attimo queste Se ci mettiamo un po' Di fiorellini qua Eeeh Mi servono quelli Però Bianchi Eh vediamoci Questi qua bianchi Ah vaffanculo Ok Eh dobbiamo dormire Ma che palle Vabbè Ma arriveremo A destinazione No Devi vedere Sto cazzo Di isolo Dove cacchio E Boh Qua però Un po' di fiori bianchi Gli ho Gli ho piantati Però secondo me Non bastano Assolutamente Qua ci vorrebbe Un'altra linea Di Di ste fioriere Eeeh Fatemi vedere Un attimo qua Ecco tipo così Eeeh ok Così almeno Ci possiamo piantare Questi fiori qua Ma ci volevo piantare Piantare i bianchi Poi Ma secondo me Io qua Non ci volevo Piantare i bianchi Ci volevo Piantare I gialli I gialli Vero Sì è il giallo Che siano scarsi Che cazzo fai Vabbè ci vediamo Anche quelli gialli Non so perché Abbia preso questi Quelli gialli Ho preso solo questi In realtà Voglio piantare questi Ok Qua mettilo giù Beh a parte che Vabbè adesso Me ne servono solo tre Quindi Ah dai Facciamo proprio Le cose fatte per bene Facciamo sei E ci prendiamo un po' di legno O ci facciamo un'altra fioriera Giusto? Ci sta un'altra fioriera No perché serve la corda Vabbè ma corde Che cazzo Te lo dico a fare Allora Io vedi così E intanto Le annaffiamo Ste cose Perché altrimenti Non cresceranno mai Non le devi perle Le devi annaffiare Perfetto Adesso siamo senza acqua Grande tizio Sei un cacchio di figo Perfetto Premo Premo Ok E qua ci pentiamo Ma ne avevo fatti due Di queste cose Ancora corde servono È incredibile Mi manca Mi manca la cosa Che ho di più di tutte Le foglie Parca miseria Allora Se le abbiamo vero Intanto se ne trovano Un fottiglione Guarda Usale tutte Ste foglie Guarda Intanto Ok Va bene Una decina Dai E mi fai Ste fioriera Per favore Please Thank you La vai a mettere qua Al posto di ste corde E qui ragazzi Io mi vado a piantare I fiorellini Così almeno posso Continuare Andare avanti A pitturare Perché altrimenti Capite bene Porco Forse era meglio Mettere più vicine Perché queste Sono così lontane Perché non sono Appiccicate A queste Vabbè Poi me le sposterò Eh no Però me le sposto Subito Perché colgo Sti fiorellini Guarda Il cristo Rimuovo E me la sposto Immediatamente No che cacchio Ci fa così Lontano Scusatemi Questo non erano I piani Ok E qua ci Piantiamo Ci piantiamo Ci piantiamo Vabbè Due fiori Rossi E Ci piantiamo Un fiore Giallo Qua Poi ci piantiamo Qua Il seme giallo E poi Poi basta Secondo me Vabbè Un altro po' C'è io Quindi posso Piantarle E vado a prendermi Anche dell'acqua dolce Perché secondo me Qua la useremo Tutta Praticamente Ma puoi prenderla Tutta l'acqua Ok E Intanto ce ne facciamo Dell'altro Ovviamente Ok Quelli neri Quelli neri In realtà Ce li ho E sarebbero proprio Quelli gialli Che mi mancano Però vabbè Dai un po' di nero Ce lo facciamo Quelli neri Ragazzi Ne ho trovati Un bel po' Molto bene No Forse me ne serve Ancun altro Perché Vedo che sono Tre Tre Sì Va bene Vabbè Tanto che ci sono Scusami Metti dentro sta roba Ok Così intanto li fa Verro Come detto Non ci serve Però Insomma Magari servirà Allora Bisogna di acqua dolce Pianta semi nero Pianta semi nero Bisogna di acqua dolce Innaffia Questi sono innaffiati Innaffia Questi innaffia Questi innaffia E queste Innaffia Perfetto Siamo senza acqua Ve l'avevo detto Adesso Io andrei avanti Con Tac Il colore Sempre bianco Per favore Riusciamo ad arrivare Alla fine Ti prego Ok Sì Perfetto Il pavimento Ragazzi È finito Una finezza Proprio Guardate che bello Ok È sempre il nostro Marroncino Qual era questo? Yes È solo che finiamo il giallo Vabbè la porta Me la faccio però Ok E arriviamo fin qua Con il marroncino Non abbiamo più giallo Eh mancava veramente Poco Mancava veramente Poco Beh però dai Diciamo che sta venendo Bastanza bene Secondo me Serve del giallo Abbiamo del giallo Pochissimo Vero Ah sì Veramente molto poco Giallo No Uno me lo devo tenere Che se no Non me lo ristacca lì Fiori gialli Là non ne avevamo Piantati però Aspetta un attimo Sti gialli qua Non credo Oh sì No no Sì sì Mi ho pensato di come Eh Il giallo qua Merita indietro i semi Questo è il fatto Vabbè Vabbè Li rimettiamo là A fare colori Oh ma sta cacchio di isola Dov'è? Andiamo a vedere ragazzi Andiamo a controllare Scusatemi Se mi sto perdendo ma Vai col fiore giallo Qua Un po' l'abbiamo preso Vediamo cosa riusciamo a fare Dai Qual era questo? Bu No Marroncino Giusto? Era il marroncino Meno male Ok Anche ste colonne qua Mi piacerebbe fare Dello stesso colore È dello stesso colore Del muro Però qua il giallo Finisce Cavolo Che cacchio Ti devo fare Vabbè Niente ragazzi Ci facciamo le colonne Del colore del muro Anzi Prima di tutto Che cacchio Vabbè Qua è rosso Vedete Qua è marrone Ok Quando stiamo Perché ci siamo spostati Così tanto Scusa Vedete un attimo Ma che cazzo fai Ok Aspetta un attimo Ho visto qualcosa Devo andare a girare la vela Cacchio L'avevo girata E poi è rimasta così Vai vai Rotazione fluida Facendo i motori In attimo Raga Scusate Ok Allora Stanno spingendo i motori Sì Ok Vada Vada Ops Ho raccolto Dammi una ricetta Ma cos'è sta ricetta Stuvato di pesce Quasi così la butto Perché le sto accumulando qui Nel Ma che schifo Va bene No va bene Non si può vedere però Ragazzi Sto verde così All'interno Ma vabbè Però Dai diciamo che così È sobrio Più hawaiiano Che ne so Cazzo ne so Allora Stufato di pesce Noi ce l'avevamo già Qua lo stufato di pesce Esatto Ce n'è un altro qua Di stufato di pesce Provo di cervella Bla 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 Pesce gatto Frittata Frittata Pollo Stufato di pesce semplice Mettiamolo sotto Allo stufato di pesce E le sto praticamente Un po' appiccicando Al muro Dappertutto Perché tanto ne trovo A miliardi Di quelle robe Ah guarda Abbiamo fatto Bene Ah ma si può anche Fare la base Sai che non lo sapevo Ma molto bene E Allora raga Io vorrei Beh innanzitutto Arrivare a destinazione Prima di chiudere l'episodio Che cacchio è Ma canta Possiamo anche accelerare Qua ragazzi Come avevo detto Avevo messo la mod Che con il tasto Accendevo i motori Quindi Io ho anche un po' Riforniti però Per rifornire i motori Ci vuole Ragazzi Finiamo un attimo qua Era il marroncino Questo Giusto Yes Spero eh Perché Intanto questo Fa un po' Come cacchio gli pare Ma Ok Perfetto È perfetto Anche i pali Stanno a posto Molto bene ragazzi Qua abbiamo finito Vabbè dai Rimacciamo Un po' Anche di tetto Dai Però tutto marrone Non mi piace Il tetto Magari lo rifaccio bianco Lo rifaccio bianco Ma il bianco Avete visto Che scarseggia Scarseggia Perché qua adesso Eh vabbè C'è sta Questa cosa Ma Magari possiamo Anche fare Solo Diciamo No no Possiamo farla Bene Quindi basta Allora Vabbè Bisogna andare a raccogliere Un po' di ferellini Magari in qualche isoletta E Li raccoglieremo Li raccoglieremo Raga E Dai Non sta venendo Proprio male male No Guardate qua Marrone qua No Beh sopra no Beh avete ragione Sotto fa un po' schifo Però almeno sopra qui Dall'esterno La facciata è venuta Abbastanza bene Qua ho lasciato acceso Ovviamente sì Quindi consumiamo Le batterie così Ragazzo Vabbè Cerchiamo di arrivarci In fretta Allora Non so perché Si sposti la bagnarola Qua Bella Basta 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 Allora Vediamo un po' Scendiamo i motori Dai che spingiamo Almeno un po' Qua In questa direzione Perché Andiamo a vedere Il livello di carburante Scusate Ma ce ne sta un po' Sta pieni Stam pieni Stam pieni Stam pieni Vabbè dai Comunque Un po' di assi Poi ce le rimettiamo dentro Che ti frega Tanto queste adesso Vanno con le assi Voglio Cercare di farli andare A farli andare A carburante Però Allora Settecento Settecentocinquanta Perché solo col vento Credo che il vento Ci spinga un po' In là E poi credo che La vela non sia proprio Drittissima Ecco secondo me Perché Non volevo Toccarla quella vela Perché Poi metto Andare giù Vediamo se è dritta Così Forse È pelo pelo No è dritta Dritta Ok Vediamo l'orizzonte qualcosa Assolutamente No Ragazzi qua Ci andrò a fare La stazione di pilotaggio Qua sopra Mentre qui Io andrò a fare La Seicento metri Cento metri Dovremmo cominciare A vederla Quando stiamo Stiamo lunghi ragazzi Con l'episodio Avete perfettamente ragione Che siamo Sopra i 30 minuti Ma io non ve lo taglierò Ve lo editerò Così tutto Poi dovete subire Con me Questi viaggi Noiosi Scusa no Chiudi Ma non trasportare Sta roba Che mi sbaglio sempre Digli la lana Qua ci vuole il secchio Io secchio Adesso non ce l'ho O lo sto facendo le uova Vabbè niente Ok 500 metri Possiamo anche spegnere i motori Adesso La vediamo l'isola Eh perché sto consumando Un sacco Cioè consumano Un fottiglione Raga Cioè guardate qua Guardate quanto cazzo Consumano Ste cose Io non ce l'ho Tutta sta roba Da metterci dentro Ste assi Eh le ho finite Beh che Potrei anche andare A riprenderle Rimetterle Però Dove cacchio è St'isola Andate A cagare Ecco la registrazione È accesa Non so perché Quando prendo Sti oggetti qua Specialmente Quando ce ne sono tanti Fa questa micro laggata E Probabilmente Voi la vedete Ancora di più laggata Perché La registrazione Soprattutto la Gampellino Di view Dormi Ricopaggiamoci Con l'acqua Perché questo ha sete Come stiamo messi Eccola Eccola Fermi 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 Abbiamo trovata Allora mettiamo dentro La legna Che abbiamo recuperato Per favore Spegniamo i motori Mettiamo la legna Che li voglio tenere Praticamente pieni Ok Adesso vediamo L'ultimo Dove è arrivato L'indicatore Perché secondo me Secondo me Sta già a metà Qua E certo Va bene Ecco Sono tanti Da spostare Sta roba Quindi Vediamo un po' Andare su Per vedere qua Tangaro Che cacchio Niente Batteria scarica Ma ci siamo arrivati Dai Batterie Non è un problema Ragazzi Perché Abbiamo talmente Tanto rame E la batteria Si fa Come detto Con il rame Con l'ingotto di rame Ce ne abbiamo talmente Tanti Che le batterie Non sono minimamente Un problema Anche se Mi piacerebbe Tipo ricaricarle Volendo Credo che ci sia Anche il sistema Per quello Ehm Che tipo Guardate Io prendo tipo Un ligotto di rame Qua E rifaccio la mia Batteria E sti cacchi Non ce lo metti Poi possiamo anche Mettere laggiù questa Abbiamo anche un po' Di legno Che abbiamo recuperato Cassa la miseria Ma un botto Ne abbiamo recuperato Ok Il legno qua Non ne serve Per effetto La plastica Ne abbiamo Anch'essa Un fottiglione Corde Ce ne facciamo Un pelo Ah no Scusa Vabbè Così Almeno stiamo A posto Via le foglie Ehm Dobbiamo mettere Giusti i coloretti Qua Poi lo faremo Lo faremo Ok siamo arrivati Facciamo tranquillamente Calarla ancora Giusto Andiamo un pelino Più avanti No 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 Io direi di andare Un pelino più avanti Raga Ehm Vado a mettere Questa batteria qua E altrimenti È un delirio Qua Metti la batteria Per favore 148 Vabbè Questo adesso Lo puoi anche spegnere Comunque la batteria nuova C'è Questa era quella Che mi premeva La batteria nuova E Dove erano messe Le altre Medile qua Dai via Mettiamo giù Anche sti coloretti qua Che la prossima volta Magari andiamo D'exploration Perfetto E metto giù L'ancora Che dite Eh si Stavolta si Vai Cazzo Abbiamo praticamente Parcheggiato Cioè Voglio dire No Guardate qua Eh si Perché poi Devo anche fare Una virata Perché In quel punto lì Devo Devo schivarla Quella cosa lì Non ci posso andare A sbattere contro E ci vado A sbattere contro Sicuramente Bene ragazzi Qui siamo arrivati Adesso A Tangaroa No a Caravantown Scusatemi Che cacchio è Caravantown E Caravantown Ragazzi ce la vedremo È un'isola Con tutte le Ovviamente Delle carovane Penso Delle roulotte Ce la vedremo Nel prossimo episodio Ragazzi Ricordatevi di lasciare Like Commenti e condivisioni Qua sotto E ricordatevi Di lasciare un like A voi Non costa Assolutamente Mezzo centesimo Dove cazzo sono andato Mezzo centesimo E a me Cambia la qualità Della vita Scusate Magari sono sparito sotto Ogni tanto Lo faccio Ciao raga Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti